Mi misero in un vagone bestiame e mi spedirono in Germania. Ho fatto l'ultimo anno di guerra in Germania in un campo di lavoro coatto e lavoravo insieme agli ebrei di Dachau. Questo campo era vicinissimo a Dachau. Lavoravamo all'aperto, mediamente 12-13 ore al giorno, mangiare poco, praticamente niente. È una vita incredibilmente dura. Ho scelto gli Stati Uniti e mi sono recato a New York. L'ho vissuto lì per cinque anni, dal 50 al 55. Diciamo un'ammirazione mia verso Cesare e anche di chi, per esempio, ha sentito parlare del Far West e non c'è mai stato, che ho sentito parlare dell'Oriente e non c'è mai stato. Ho sentito parlare di un periodo d'oro del jazz e lui c'è stato. Un personaggio assolutamente geniale, con un passato straordinario, avventuroso, con delle capacità, così, leonardesche. La vita è veramente breve, è un lampo. Viviamo pochi mesi, poche settimane, come le farfalle.